Sono stati identificati i ladri che nella notte tra sabato 4 e domenica 5 gennaio sono entrati in buona parte delle casette natalizie collocate a Ravenna, in piazza del popolo, per tutta la durata delle festività. Gli individui che hanno colpito in quella nottata sono stati due giovani, uno di 19 anni di nazionalità italiana e l'altro di 22 anni e di nazionalità marocchina, entrambi con precedenti. Hanno forzato le porte di ben 7 di queste strutture in legno portando via il denaro lasciato dai commercianti, oltre ad alcuni oggetti esposti per la vendita, quali berretti, sciarpe e alimenti. Un furto commesso sotto gli occhi elettronici delle numerose telecamere di piazza del popolo. I due ragazzi dovranno rispondere del furto e si stanno cercando eventuali altri complici. Il ride alle casette del Natale di piazza del popolo a Ravenna non è stata l'unica attività criminale a danno del patrimonio a cavallo dell'epifania. Furti sono stati segnalati in tutta la provincia di Ravenna, in particolare bande di topi d'appartamento hanno colpito nella zona di Bagnacavallo e in diverse case di faenza.